Ciao cari amici, i russi con i loro colleghi di Tajikistan, gli inquirenti dei servizi segreti FSB, dei servizi segreti e servizi di sicurezza di Tajikistan, hanno iniziato a lavorare già diversi giorni fa per diciamo ampliare le ricerche dei terroristi, per anche prevenire futuri possibili attentati terroristici come quello che purtroppo è avvenuto a Mosca nei giorni scorsi e la cosa interessante è che Tajikistan ovviamente sta facendo molto perché si sentono coinvolti, perché capiscono che l'attività di questi terroristi adesso non si sa quanti di preciso ci sono stati a partecipare a questo attentato, noi sappiamo che per adesso sono stati arrestate già 15 persone. Io all'inizio nel mio primo video ho riportato quelle che sono le testimonianze di alcuni testimoni oculari e anche di alcuni sopravvissuti all'attentato terroristico e alcuni di loro parlavano addirittura di 20 terroristi, cioè di 4 gruppi da 5 uomini. Se sono le informazioni veritiere oppure sono solo visioni di persone confuse che si sono trovati all'interno di un attentato in mezzo a una sparatoria che cercavano di fuggire da luogo incendiato, noi non possiamo sapere, noi sappiamo solo che le testimonianze erano quelle e io le ho riportate nel mio video e tra l'altro si trovano tutte anche sul mio canale privato Telegram. Se voi volete vedere la cronologia di ciò che è accaduto, io sul mio canale privato Telegram ho gestito veramente in una maniera più profonda, più attenta che potevo la cronologia degli eventi. Quindi se voi andate sul mio canale privato Telegram, tra l'altro il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video, voi troverete anche tutte queste interviste con queste persone, tutte queste dichiarazioni che sono uscite all'epoca, proprio nelle prime ore dopo l'attentato hanno cominciato a uscire queste notizie. Per cui si trattava all'epoca di 20 persone, adesso i russi hanno arrestato ufficialmente 15, stanno svolgendo ovviamente dopo l'arresto ogni persona viene sottoposta alle profonde indagini, interrogazioni, ad esempio ieri io ho condiviso la notizia che è arrivata una conferma dal comitato dell'indagine della federazione russa, loro hanno detto che ufficialmente hanno rivolto le accuse di terrorismo, di partecipazione al terrorismo al nono partecipante all'attentato terroristico. quindi quei quattro che sono stati arrestati in macchina mentre fuggivano verso il territorio dell'Ucraina non erano gli unici. Adesso degli altri si parla poco perché si cerca di capire come loro sono fuggiti, chi li ha aiutato, che tipo di rapporto avevano con le altre persone, quindi la loro identità in gran parte è ancora nascosta, sono 15 nomi in tutto, alcuni di loro sono già stati annunciati, io li ho riportati tutti sul mio canale privato Telegram, ci sono tutti, quelli che sono stati annunciati dalla commissione d'indagine. Poi però ci sono alcuni che non sono stati annunciati perché la questione è ancora segreta, perché ancora si sta indagando. Però la cosa importante è che a questa indagine attivamente partecipa ovviamente il governo di Tajikistan, le strutture speciali di Tajikistan e poi partecipa anche la diaspora di Tajikistan. Ovviamente ci sono molte persone oneste provenienti da Tajikistan che non c'entrano niente con terrorismo, che sono buoni musulmani, sono fratelli dei cristiani, loro si comportano in maniera anche esemplare, si può dire perché non bevono, non fanno casino, sono coinvolti nelle situazioni criminali, lavorano, fanno crescere i figli e in Russia in qualche modo la loro comunità è stata colpita da questa terribile azione dei terroristi. I terroristi non hanno solo ucciso gli innocenti all'interno di questa sala, non hanno solo danneggiato la vita alle persone che hanno perso i loro cari, che adesso figli sono rimasti senza genitori, genitori senza figli, ci sono situazioni, ci sono storie veramente drammatiche, io qualche volta li pubblico sul mio canale privato Telegram, ad esempio ieri ho pubblicato una storia di una giovane ragazza di 26 anni che ieri ha dovuto ufficialmente fare i documenti e ha preso in carico la tutela della propria sorellina di 6 anni perché la sua madre e il suo patrino sono stati uccisi, ah, madre, patrino e fratellino sono stati uccisi dai terroristi. Unica a sopravvivere è stata questa bambina di 6 anni e quindi questa ragazza di 26 anni adesso vivrà crescendo questa sorellina di 6 anni con cui hanno solo la mamma stessa, padre invece è diverso, però lei ha fatto questo gesto, l'ha preso perché è la parte di sua famiglia e la crescerà come se fosse sua figlia perché sono sorelle ma hanno 20 anni di distanza ed era abbastanza impressionante leggere la sua intervista, quello che le raccontava a questa ragazza di 26 anni perché la sua vita è stata cambiata completamente, cambiata ovviamente non in positivo perché ha perso la madre, ha perso fratellino e anche con patrino non aveva diciamo brutti rapporti, le voleva bene pure a lui, però improvvisamente questa ragazza è diventata una donna responsabile, infatti lei stessa ha detto che adesso io non penso più a quello di cui pensano i giovani, uscire con amici, io adesso capisco che devo per forza dare a questa mia sorellina una famiglia che lei ha perso e quindi devo impegnarmi per cambiare completamente la vita. Queste sono situazioni che purtroppo l'attentato terroristico ha portato nella vita di molte persone e ovviamente anche nella comunità di, nella diaspora tajica e non solo tajica, anche di altre diaspore provenienti dai paesi asiatici, ex paesi dell'Unione Sovietica come Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakistan, sono tutti paesi che hanno grandi diaspore a Mosca, in altre città russe, in Russia fanno la loro vita, lavorano, crescono i figli e per loro è un enorme e grave danno trovarsi improvvisamente coinvolti in una situazione del genere, dove la loro etnia viene associata dalle persone locali con il terrorismo. Immaginate bambini che vanno a scuola e tutti iniziano a guardarle con preoccupazione perché insomma nei notiziari hanno detto che i terroristi sono tajiki. Per questo motivo anche stesso Vladimir Putin, presidente Putin, ha fatto un discorso molto importante mentre lui si è incontrato con i militari recentemente a Tveri, lui ha detto, lui parlava di terza guerra mondiale, ha affrontato diversi discorsi, io tra l'altro anche ho dedicato questo a uno dei video precedenti, ma un'altra cosa importante che lui ha detto è la necessità di non distruggere gli equilibri della società russa, lui ha detto noi siamo società multiconfessionale, multiculturale, multietnica, noi non possiamo far sì che questi terroristi, che questa gente che le ha pagati perché sicuramente si tratta della CIA, si tratta dell'Occidente, è chiaro da dove è arrivata questa schifezza, loro fanno queste cose per inasprire le relazioni all'interno della società russa, per far sì che i russi diventano più nazionalisti, guardano con più attenzione i musulmani, persone provenienti da repubbliche ex-sovietiche, asiatiche e che di nuovo cresca il pericolo terroristico. Per questo motivo la società tagica collabora strettamente con gli inquirenti, loro cercano di fare tutto il possibile per trovare i terroristi, in effetti in pochi giorni li hanno trovati già 15 e non è la fine perché stanno tirando per il colo chiunque aveva a che fare con i terroristi, cioè stanno veramente portando in polizia a fare interrogatori anche alle persone che le hanno venduto qualcosa, che ad esempio una persona è stata interrogata perché ha venduto un cellulare di secondo mano a uno di questi terroristi, è stato sottoposto alle indagini, senza scherzi, cioè ha rischiato veramente di passare come coinvolto al terrorismo, è stato salvato grazie al profondo studio della sua vita, hanno visto che sui social non faceva nessun tipo di attività sospetta, ha i figli, lavora, di lui parlano bene tutti, non è stato mai coinvolto in nessuna situazione strana, ma è passato qualche giorno sotto interrogatori perché semplicemente ha venduto il proprio cellulare usato a uno dei terroristi nel passato. Questa è la situazione, quindi dalla parte di comunità Tajika c'è un'enorme collaborazione e una cosa significativa è che la mamma di uno dei terroristi, Shamseddin Fariduni, lui diciamo quello che ha fatto le riprese durante l'attentato terroristico. La mamma è stata abbastanza coraggiosa a mio avviso, ha messo la faccia, cioè si è fatto vedere per quello che è, ha fatto vedere il suo volto e ha fatto forse quello che è molto difficile di fare per ogni madre, soprattutto per una madre musulmana, non so se qualcuno di voi sa, ma nell'Islam il ruolo della madre è molto particolare, è molto importante e quindi questo rapporto della madre verso il figlio è altrettanto importante. Non solo c'è rispetto dei figli verso la madre, della società verso il ruolo della madre, ma c'è anche rispetto della madre verso i figli, che non le abbandona mai, che le tratta sempre in un certo modo. E qua invece la madre, diciamo, si è dissociata ovviamente dal suo figlio, cioè lei ha detto che tu per me non sei più mio figlio, quindi questa è la cosa, nell'Islam è la cosa più grave che può succedere con una persona. Cioè gravissima ovviamente essere, uscire fuori dalla grazia di Dio e essere rifiutato dalla propria madre. Io ho guardato il video, l'ho tradotto, l'ho condiviso sul mio canale privato Telegram. Una donna che ha detto le parole dure nei confronti di suo figlio. Le ha detto che, ovviamente, ha detto che prende le distanze, che disconosce il proprio figlio, che ha detto tu, lei si è rivolta in un certo punto proprio a lui, ha detto tu non sei più mio figlio, tu hai fatto una cosa che non deve essere mai fatta, ha chiesto, le ha chiesto scusa ai parenti delle persone uccise, ha detto che anche tra di loro ci sono le madri, ci sono i figli che hanno perso le loro madri, e ha chiesto, figlio mio, perché l'hai fatto? Perché tu hai fatto questo? In certo punto lei dice, tu devi sapere che per Allah, cioè per Dio, tu non sarai mai un shahid. Shahid nell'Islam è una persona che muore per una causa giusta. Non è necessariamente un guerriero santo o qualcosa del genere. Una persona, ad esempio, se uno va a salvare un bambino che annega, e salvando questo bambino annega lui stesso, è un shahid. Cioè è uno che ha dato la propria vita sforzandosi per fare una causa giusta. Purtroppo il nome shahid, soprattutto nell'ultima fase della storia, è stato utilizzato in maniera un po' più, diciamo, legata alla guerra, al terrorismo, spesso la narrazione attorno al terrorismo usa questi termini, come shahid, mujahidin e così via. Oppure jihad stesso, stesso jihad, come viene rappresentato come la guerra santa. In realtà, se vuoi andate a vedere che cos'è realmente jihad, nella interpretazione coranica, jihad può essere qualsiasi azione di miglioramento di se stesso e di mondo attorno a voi. Cioè quando voi vi impegnate per fare qualcosa di bene, un'opera di bene. Ad esempio, se una persona decide di migliorare se stesso e impone se stesso una dieta, anche questo è una specie di jihad nell'islam. Però noi interpretiamo, diciamo, quello che sentiamo dai media e ovviamente come viene rappresentato il Corano da loro e la struttura coranica, la legge coranica, spesso viene estremezzato soprattutto per garantire una certa, se si può dire, propaganda dell'odio tra etnie, religioni e così via. Ed è molto importante comunque che la madre di Shamsuddin Fariduni ha detto queste parole spiegando che il suo figlio, davanti a Dio, davanti a quello che i musulmani chiamano Allah, non solo musulmani, anche cristiani nel Medio Oriente chiamano Dio Allah. Ad esempio, Allahu Akbar non è una citazione, non è un motto solo musulmano. Lo dicono anche cristiani, ad esempio in Palestina o in Egitto o in altri paesi Medio Orientali dove ci sono cristiani di lingua araba o Giordania, ad esempio. Lì i cristiani dicono Allah, Allahu Akbar, cioè Dio è grande, perché non è una parte solo della religione islamica questo motto. È diffuso anche sui cristiani. E quindi la madre ha detto, la madre del terrorista ha spiegato a tutti e anche e soprattutto a molti giovani, il suo messaggio secondo me è importante perché arriverà a molti giovani, a tutti quelli che sognano di magari fare qualcosa che vengono sfruttati da vari addescatori, da vari personaggi che le promettono che terrorismo diventa una sorta di modo di realizzarsi in questo mondo. Guarda che tu diventerai shahid, guarda che tu diventerai importante per Dio. Questa donna ha spiegato che assolutamente no, non è così. Dio non vuole i shahid fatti in questo modo, perché non uccidendo gli innocenti una persona diventa nell'islam cara a Dio, anzi si allontana da Dio. Quindi tutte queste balle che raccontano vari predicatori estremisti, che raccontano che se uno prende armi in mano e va ad ammazzare gli innocenti infideli, solo perché loro sono infideli, lui si guadagnerà il paradiso, tutto questo non corrisponde al vero messaggio del Corano, perché nel Corano non è mai scritto che una persona può raggiungere Dio ammazzando gli innocenti, questo non esiste. E questo messaggio è stato lanciato da una madre, questa è una cosa molto importante, una figura sacra per l'islam. Io credo che in Tajikistan stanno capendo la gravità di ciò che è successo, e anche chi ha parlato con questa donna, chi ha fatto questo video, chi ha diffuso questo video, anche stessa donna, stessa madre del terrorista, bisogna comunque trovare la forza per apparire, per mettere la propria faccia, per farsi vedere. Lei lo ha fatto per prevenire i prossimi gesti simili. Comunque attualmente, cari amici, per comprendere la situazione, i russi stanno ancora cercando gli altri componenti di questo gruppo terroristico, e c'è una forte volontà di fare una specie di pestaggio da parte delle Stati Uniti d'America, del mondo occidentale, che cercano di dare tutte le colpe all'ISIS. Persino l'ISIS stesso ha fatto le dichiarazioni, tra l'altro a distanza di diversi giorni. Di solito noi abbiamo visto l'ISIS subito assumere le responsabilità. Qua arrivano le comunicazioni dopo passare dei giorni. A mio avviso, semplicemente qualcuno di Casa Bianca chiama i loro amici dell'ISIS e dicono ragazzi, noi non vi manderemo più le armi, non vi manderemo più i soldi, non compreremo più petrolio che voi rubate per noi, lì nei territori dove vi trovate, se voi non prendete responsabilità di questo attentato. Tanto che a voi non frega niente. Un attentato più, un attentato meno, non ha importanza. Per noi invece questa è una cosa di rilevanza fondamentale in questo periodo. e subito l'ISIS escono con questa dichiarazione, ecco siamo stati noi. Ma tutto dimostra che questo attentato non è un attentato svolto dall'ISIS, questa è un'operazione gestita dai servizi segreti, i servizi segreti sicuramente statunitensi e britannici, perché gli altri non sono in grado di svolgere le operazioni di questa portata. e chiaramente si può dire che in questa situazione l'ISIS è semplicemente un parafulmine, un parafulmine, mentre la verità è molto più complicata. Qua in occidente alcuni mi hanno scritto, io ho letto ecco, anche Putin ha ammesso che sono stati l'ISIS. Putin non ha ammesso che sono stati l'ISIS. Qua ci sono state le strumentalizzazioni delle parole di Putin, delle dichiarazioni dei russi allucinanti. Putin non ha mai detto che è stato l'ISIS a fare questa cosa. Lui ha detto che l'ISIS probabilmente è stato sfruttato in una certa fase di preparazione. Questo è chiaro, probabilmente sono stati utilizzati i canali di addescamento, ovvero i servizi segreti occidentali che hanno avuto accesso ai canali di Islam radicale che gestisce l'ISIS e da lì hanno trovato questi poveri disgraziati che guardavano questi canali, che si riempivano la testa di questa immondizia radicalizzata e le hanno proposto però i soldi, hanno fatto tutto molto più in fretta, perché l'ISIS di solito fa un lavoro ideologico che dura molto. Avvicinano una persona alle proprie idee, poi iniziano a invitare questa persona ad agire. Prima le fanno fare piccoli operazioni, passare messaggio, nascondere un'arma, trasportare un'arma. Vedono come persona reagisce, poi ricordate che tutto avviene in Russia, quindi per l'ISIS è molto difficile agire. In Russia l'ISIS vengono massacrati, di recente in inguscezza le hanno uccisi in un appartamento, le hanno massacrati tutti. Quindi non è facile per loro fare queste azioni. Questo significa che l'ISIS è stato utilizzato solo come la base di addescamento. tutto il resto hanno svolto i servizi segreti. Cosa hanno fatto? Hanno preso dei disgraziati, le hanno proposto i soldi. E fine. E questi idioti hanno agito. per cui io in questa situazione, cari amici, farei ancora molta attenzione a fare delle dichiarazioni troppo esplicite. Qua troppe persone parlano del fatto che è sicuro, è stato l'ISIS perché lo ha detto Biden, perché lo ha detto Putin, perché l'ha confermato quello, l'ha confermato l'altro. Ovviamente quando vedo cosa riportano tutte queste persone come i fatti, si vedono solo gli articoli dei giornalai occidentali che non fanno altro che raccontare le balle. Da sempre, tra l'altro. Nell'ultima fase della storia lo fanno ancora più pesante e in modo più grave di quanto facevano prima. Però la cosa che personalmente mi colpisce e mi costringe di essere sospettoso nei confronti di certe dichiarazioni è una semplice questione di valutazione di diversi attentati terroristici a distanza del tempo. Io cerco di ragionare in modo razionale e logico cercando di mettere da parte sentimenti personali, coinvolgimento emotivo. Io quando è successo questo attentato per prima cosa ho fatto un paragone con altri due attentati. L'11 settembre le torri a New York ancora oggi non siamo sicuri, non sappiamo niente ci sono tantissime teorie ci sono tantissime accuse ci sono tantissime stranezze non si capisce niente non si sa chi è stato non si sa chi è stato gli americani hanno incolpato Al-Qaeda la guerra poi dopo hanno fatto all'Iraq che non c'entra niente con Al-Qaeda perché se incolpavano Al-Qaeda dovevano fare la guerra contro la CIA e contro Washington perché da lì arriva Al-Qaeda sono loro che hanno inventato Al-Qaeda sulla base di Taliban movimento tra l'altro anche creato e finanziato da loro in Afghanistan in funzione antisovietica però hanno fatto la guerra in Iraq hanno impeccato Saddam Hussein insomma per una cosa che lui non ha fatto una cosa che non ha fatto per questo l'hanno ammazzato e quindi io guardo 11 settembre a distanza degli anni non ancora chiaro chi è stato guardo Nord Stream ascoltate quello che dicono le autorità statunitensi non si sa chi è stato non siamo stati noi non sappiamo chi sono i responsabili forse sono stati i russi forse sono stati polacchi forse sono stati ucraini forse è esploso da solo non si capisce niente non sappiamo chi è stato ma è possibile che un attentato avvenuto a Mosca già dopo un'ora gli americani sanno che è stato l'Isis io ragiono dal punto di vista logico e razionale cavolo a New York sono crollate le torri sono state buttate giù le torri non si capisce se da aerei oppure le hanno fatto esplodere dall'interno su questo possiamo discutere fino all'infinito il fatto che sono crollate le torri morta un sacco di gente uno shock totale all'interno dell'enorme impero egemonico mondiale non sappiamo ancora che è stato Nord Stream non sappiamo che è stato cavolo dopo un'ora dell'attentato a Mosca sanno già che è stato l'Isis io mi domando ma scusate ragazzi ma ci state pigliando per per quel posto? cioè voi veramente volete che io credo alle vostre affermazioni dopo una una valutazione logica in base a quelle che sono le esperienze precedenti? cioè voi non sapete che cos'è successo a casa vostra e mi volete a distanza degli anni e mi volete convincere che sapete cosa è successo nella casa degli altri dopo un'ora? quindi amici io vi invito di di non condividere le bagionate propagandistiche di non seguire quei vari finti esperti analisti che qua anche su youtube blatterano no ma perché è sicuro è stato l'Isis è sicuro qua è sicuro è morto come dicono a Roma qua in queste situazioni non c'è niente di sicuro qua c'è stato un attentato terroristico i terroristi hanno cercato di fuggire in Ucraina i terroristi stessi hanno dichiarato di essere in contatto telefonico con qualcuno che li gestiva con dei curatori che le hanno trasferito dei soldi e che le hanno detto di ricarsi in Ucraina per prendere un'altra parte dei soldi che li dovevano questo è sicuro e abbiamo di sicuro un attentato svolto e gestito in maniera totalmente diversa da come vengono svolti e gestiti gli attentati da parte dell'Isis è completamente diversa la gestione di questo attentato per cui io vorrei invitare tutti voi di lasciar perdere la storia con l'Isis a mio avviso la situazione più complicata o la situazione più profonda e ci vuole ancora parecchio tempo prima che la verità o la realtà oggettiva come la chiamo io esca a galla dobbiamo solo aspettare aspettiamo gli inquirenti aspettiamo le indagini aspettiamo i rapporti delle autorità intanto la cosa molto importante è che la madre di uno dei terroristi ha spiegato a tutti che cos'è che cos'è il terrorismo che non porta niente di utile e che finisce sempre ad allontanarsi da ciò che è se vogliamo pensare ciò che è Dio o ciò che è l'universo ciò che sono le leggi di base dell'umanità e sempre si tratta di un atto ostile alla società e non c'è niente da fare nessuno vince con questa cosa tutti hanno solo da perdere amici con questo io vorrei salutarvi grazie per la vostra attenzione per il tempo che mi dedicate grazie per la vostra voglia di scoprire e conoscere i fatti io vi invito di approfondire le informazioni che di solito vengono censurate e nascoste dal nostro mainstream e vi invito di approfondirle sul mio canale privato Telegram il link per abbonamento al mio canale troverete nella descrizione questo video se volete io vi invito anche di seguirmi e sostenermi qua sul mio canale YouTube per questo vi invito di iscrivervi al mio canale di commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio lo vedete qua alle mie spalle in questo libro io racconto le origini della guerra in Ucraina se vi interessa chi come quando e perché ha organizzato questo brutale sanguinoso evento che ormai ci riguarda tutti vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate carissimi vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene e vi voglio bene Grazie a tutti.